Che cosa vuol dire che lei ha agito secondo l'interesse pubblico, come ha sempre detto, nel togliere lo stadio a Toccafondi? Non ho tolto lo stadio a Toccafondi, è Toccafondi e la Ciprato che hanno legittimamente rinunciato. L'interesse pubblico è che è stato seguito, quelli che sono i percorsi previsti dalle norme, almeno così è sempre stata la nostra volontà. Il Consiglio di Stato e il TAR prima l'hanno certificato, la Procura fa legittimamente le proprie indagini e approfondimenti. Io resto consapevole e tranquillo che tutto quello che è stato fatto è sempre stato assolutamente ponderato e valutato per bene, senza nessun tipo di rivendicazione verso nessuno, se non quello che sono stati i percorsi normali previsti dalle norme. Lei è iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, quale sarà di qui in poi la sua strategia difensiva? La strategia difensiva è di spiegare come è giusto e sia, come si sono svolti i fatti, quali sono state le scelte, come siamo arrivati a quelle decisioni, semplicemente perché siamo consapevoli che tutti quanti abbiamo fatto quello che le norme prevedono di fare. Ripeto, il Consiglio di Stato ha certificato proprio l'altro giorno che il percorso dell'amministrazione è stato assolutamente corretta. La Procura sta approfondendo per conto suo, vedremo, noi spiegheremo esattamente quello che abbiamo spiegato davanti agli altri tribunali amministrativi, quali sono stati i percorsi che hanno portato l'amministrazione a compiere quelle scelte. Poi giustamente ognuno ha i propri percorsi, i propri approfondimenti da fare, un grandissimo rispetto, ci mancherebbe altro, noi siamo tranquilli, certo non fa piacere però va bene, fa parte dei percorsi dell'amministrazione. È la seconda bega giudiziaria dopo il CREAF, per lei ritiene comunque opportuno ricandidarsi alle amministrative? Ma che discorso? Questo è un discorso che non capisco e non comprendo, lo dico molto onestamente, premesso che ci saranno dei processi da fare, ma veramente non capisco dove sta il punto, non sono reati, mi sembra, dove ci sia messa in discussione la moralità o comunque vada i percorsi che riguardano l'attività dell'amministrazione. In un caso, quello del CREAF, io arrivo per ultimo e sappiamo tutti com'è andata. In questo caso, da un lato, i tribunali amministrativi hanno ragione, la procura sta facendo i suoi approfondimenti, lo dico molto onestamente, ti viene voglia di lavorare di più perché oggettivamente mi sembra sia una situazione che, ripeto, tutto doveroso, ci mancherebbe, va benissimo, tutti quanti noi siamo tranquilli nel sapere di, come dice un vecchio adagio, male non fare, paura non avere, poi ognuno fa i suoi percorsi, però a legare questo all'amministrazione è così, non sono reati che intaccano quella moralità su cui io per primo voglio che ci sia la massima trasparenza e la massima tranquillità. Queste sono scelte molto legate all'amministrazione, in un caso si dice andava chiuso, andava tenuto aperto, in un altro caso si potevano andare allo stadio, però sono questioni veramente legate anche a scelte, certi casi tecniche, insomma sono questioni di questo genere e le ricandidature si valutano sul lavoro che viene fatto in città, su quelli che sono i percorsi che ci sono aperti, su quali sono gli investimenti fatti, su quali sono le prospettive culturali, economiche di sviluppo di una città, cioè ridurre il tutto, le candidature a questo mi sembrerebbe una roba abbastanza bizzarra e poco rispettosa per la politica innanzitutto. Poi i cittadini valuteranno, faranno legittimamente le loro valutazioni, ma questo lo trovo una discussione veramente poco sana per la politica, per la democrazia di tutti, lo dico onestamente.